L'Ufficio Scolastico Regionale benedice un progetto che vedrà protagonista il Conservatorio Casella, il Liceo Musicale dell'Aquila e altre scuole. Prevede la creazione di una rete territoriale di scopo per la promozione e la diffusione della musica. 17 istituti comprensivi all'Aquila non solo, con il Conservatorio hanno sottoscritto il patto che vedrà il battesimo con un evento alla Chiesa di San Silvestro dell'Aquila il prossimo 7 maggio, con una lezione concerto del maestro Simone Genuini e l'Orchestra dell'Aquila in crescendo. Le scuole in rete realizzeranno iniziative finalizzate alla promozione e diffusione nel territorio della cultura musicale, coreotiche e teatrale, costruendo orchestra e sostenendo attività dei cori e tanto altro, compresa l'organizzazione di Masterclass, un comitato artistico organizzativo sarà nominato. È una bella iniziativa, siamo sicuri del successo, coinvolge 17 istituzioni scolastiche del Comprensorio Aquilano, sono 140 studenti, quindi sicuramente una bella spinta per il movimento della cultura musicale aquilana. Ecco, si parte con un accordo di tre anni, però se funzionerà, possiamo dire, è quasi un esperimento, si andrà avanti sicuramente? Sì, siamo molto fiduciosi, ci sono già dei pregressi che lasciano ben sperare, hanno già fatto delle iniziative che hanno avuto un grande successo e quindi siamo molto soddisfatti. Grazie a tutti.